eccoci qua di nuovo a parlare di calcio inglese lo abbiamo fatto tante volte durante queste festività perché è il periodo più bello dell'anno nel football britannico e ogni anno in questo periodo ci riscopriamo ancor più amanti se possibile di questo fantastico scenario ne ho parlato anche stamattina nel primo appuntamento del 2020 con la mia rubrica sul sito star casino punto sport pensare con i piedi vi metto il link in descrizione qualora non la conosceste ancora e cosa ho detto ho detto che è troppo bello durante le feste avere a che fare con il calcio inglese con la sua atmosfera con i suoi ribaltoni con la sua straordinaria giostra calcistica e sarebbe molto bello poterlo fare anche dalle nostre parti non solo guardare le partite in televisione ma poter andare allo stadio a tifare la nostra squadra magari tornando a casa in un raro momento con qualche giorno libero andare allo stadio con gli amici ritrovarsi la serie a ce l'ha concesso nella stagione scorsa poi evidentemente si è ripensato a questo esperimento che per me era stato fantastico e lo dico dalla parte di uno che fa questo mestiere e l'anno scorso non ha potuto passare le feste in famiglia proprio perché si giocava la serie a però chi sceglie di fare questo lavoro deve anche un po' mettere in conto che lavoriamo sul calcio che è una cosa molto bella ma il calcio è della gente quindi la gente deve avere la possibilità di poterne godere al massimo nei momenti in cui può farlo nei momenti di festa nei momenti in cui è libera in inghilterra hanno molta attenzione riguardo questo aspetto e infatti nel boxing day nel turno di capodanno ci sono le migliori affluenze della stagione anche dal punto di vista commerciale c'è un grande guadagno in italia invece evidentemente ci sono altri tipi di priorità poi però non stupiamoci se la premier league continua a dimostrarsi e a diventare sempre più il campionato più importante più ricco del mondo e il nostro invece arranca sia a livello di immagine che a livello di risultati parliamo però di calcio perché a questo punto dopo il tourbillon natalizio si può fare un mini bilancio anche perché poi nei giorni a cavallo della befana affronteremo i temi della coppa d'inghilterra cosa ci dice il campionato ci dice sempre più che c'è un padrone il padrone è il liverpool la squadra in assoluto dell'ultimo anno di calcio inglese perché proprio grazie al successo in posticipo con lo sheffield united il liverpool ha compiuto un anno intero senza sconfitte in campionato 37 partite consecutive senza mai andare capo in premier per la super squadra di club che ha fatto 101 punti in questo periodo era successo solo altre due volte nella storia della premier league che una squadra rimanesse in battuta per un anno e direi che questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che le liverpool non abbia in mano abbia in mano in tasca quasi in bacheca il trofeo che gli manca da 30 anni la cosa particolare che in quest'anno di imbattibilità in campionato il liverpool appunto non abbia vinto alcun al loro domestico ha conquistato la champions league ha conquistato il mondiale per club ha collezionato trofei a livello internazionale ora però dalle parti di anfield è ora di riaprire nella bacheca per metterci dentro quello che manca da troppo tempo al cop agli scousers e a tutto il mondo liverpool un mondo che continua a girare a meraviglia perché poi anche i riscontri numerici continuano ad essere strabilianti prendete il tridente firmino sala e mané hanno partecipato fra gol segnati direttamente e assist a 41 realizzazioni in tre in questo campionato è una statistica un po tirata perché spesso sono assist l'un per l'altro però dalla dimensione della potenza incontrastabile di questo tridente così come un'altra dimostrazione molto chiara di quanto sia efficace il sistema calcistico di club è il rendimento a livello di assist dei due terzini 8 assist per alexander arnold e 6 per robertson 14 assist prodotti dai due laterali possiamo andare avanti con i numeri per tutta la serata il liverpool è la squadra da battere anzi è la squadra che non si può battere in questo campionato che dunque stenderà una passerella rossa sotto i piedi dei reds da qui alla fine a meno di incredibili ribaltoni perché proprio quello che è successo in questi giorni di straordinari impegni nel football britannico ci insegna che tutto è sempre possibile finché non viene sancito dall'aritmetica e allora ci sono tante altre squadre che continuano a muoversi che continuano ad essere protagoniste di una lotta molto vischiosa molto aperta per tutti gli altri obiettivi dato per assodato che il primo posto diciamo è piuttosto occupato un riscontro importante l'ha dato il lester dopo il doppio tonfo con manchester city e liverpool poteva esserci una flessione per le fox e invece la risposta è stata molto chiara due vittorie consecutive due vittorie senza vardi segnando cinque gol per cui se ce ne fosse stato bisogno il gruppo di brendan rogers ci ha detto ancora una volta di essere un gruppo vero di essere una squadra forte il lester è meritatamente anzi strameritatamente al secondo posto della classifica e a questo punto la qualificazione in champions la posizione nel top four diventa sempre meno un sogno e sempre più un obiettivo oneri e onori però appunto gli oneri questa squadra ha dimostrato di saperli sostenere e dietro al lester rimane il manchester city manchester city che però dopo la sconfitta con il wolverhamton ha ottenuto due vittorie brillanti l'ultima nel segno di gabriel gesù che ha segnato una doppietta nel match contro l'everton che ha segnato invece la prima sconfitta di carlo ancelotti sulla panchina dei toffis una sconfitta che secondo me ci può stare sia per il tipo di partita che per come ancelotti si era presentato in premier league il passo dell'everton è il passo di una squadra che ha svoltato sicuramente rispetto alla gestione precedente quindi non penso che ancelotti dovesse portare a casa per forza i punti dal match con il manchester city questa mi sembra la strada giusta vediamo adesso cosa succede anche sul mercato tornando però ai citizens il liverpool è lontanissimo il liverpool non deve neanche essere guardato nonostante il messaggio che filtra dalle tiade quello di volerci provare perché nel calcio tutto è possibile specialmente nel calcio inglese però interpretando invece i messaggi che sta mandando guardiola e soprattutto l'ultima partita io credo che questa seconda parte di stagione per il manchester city possa essere e forse debba essere una sorta di costante banco di prova per quello che diventa il vero obiettivo l'obiettivo più grande e forse anche l'obiettivo più giusto dopo gli ultimi anni ovvero la rincorsa alla champions league avete visto come il city ha affrontato l'everton guardiola si è messo a sperimentare ha giocato con questa difesa 3 impermiata su fernandinho con ai suoi lati garcia e rodri portato come braccetto di destra del pacchetto con tre centrali poi un centrocampo costruito attorno a gundogan con il talento di de bruyne di mares di foden alle spalle di gabriel jesus due laterali a tutta fascia io credo che guardiola si sia messo a far frullare le meningi e quando girano le meningi del più grande genio calcistico della nostra epoca allora può venire fuori un qualcosa di mai visto e un qualcosa di sorprendente il manchester city prova ancora ad inseguire questa premier league ma credo proprio che andrà a puntare tutto sulla champions e allora queste lucubrazioni di guardiola mi sembrano dei segnali che il manchester city è da guardare approfonditamente è da seguire ed è da tenere molto presente le prime tre stanno quasi facendo un campionato a parte poi c'è la grande bagarre per la rincorsa al quarto posto che continua ad essere di proprietà del celsi anche se il momento non è buono per la squadra di frank lampard che continua a lasciare da parte dei punti è vero la rimonta all'emirate sull'arsenal era stata molto buona anche perché è uno scontro diretto quindi un six pointer come dicono da quelle parti ma è stata una rimonta segnata un po dagli errori dei gunners e soprattutto dalla correzione fatta in corsa da lampard che aveva sbagliato obiettivamente la formazione poi ha inserito gerginio e gerginio ha permesso di ruotare la partita per cui quei tre punti sono stati molto buoni il pareggio invece con il brighton decisamente meno al netto della perla di young bash uno dei gol più belli della stagione e non parlo solo di premier league tra l'altro grande momento per l'iraniano dopo un periodo invece di sofferenza il problema del celsi è che non riesce praticamente più a tenere la porta chiusa subisce troppi gol non ha continuità sta un po pagando io credo anche il grande sforzo ve l'ho già detto della prima parte di stagione dove i risultati sono stati indiscutibilmente buoni ora c'è una flessione c'è anche un mercato alle porte c'è soprattutto un margine che rimane discreto perché cinque punti di vantaggio sulla quinta in classifica sono un margine sono un cuscino considerevole però stiamo parlando della premier league e date un'occhiata stiamo parlando appunto di una classifica estremamente fluida perché ad esempio a nove punti dal quarto posto c'è una squadra ancora lontana che ha attraversato grandi problemi ma che mi sembra poter promettere delle cose interessanti e sto parlando dell'arsenal di arteta arteta che ha ottenuto la sua prima vittoria in un match difficile contro il manchester united una vittoria che almeno per quel che ho visto io per quel che mi è parso di intendere ha portato finalmente una capitalizzazione in un progetto che mi sembra avere delle idee molto chiare e delle idee anche piuttosto interessanti l'arsenal ha vinto 2 a 0 contro i red devils e io direi che abbiamo già un'impronta piuttosto netta di quello che arteta vuole che sia il suo calcio ovvero un calcio con due attaccanti estremamente mobili la casetta fa il riferimento centrale del 4 2 3 1 ma è un giocatore che oltre ad avere presenza e aperture nella zona dell'area di rigore avete visto anche come si abbassa molto bene per far scattare la transizione il contropiede perché l'arsenal aspetta abbastanza indietro l'avversario e poi ha questa capacità di ribaltare il fronte grazie ai collegamenti forniti dalla casetta nella presenza appunto di obama young come punta esterna ma punta esterna convergente questo è già un bel movimento due attaccanti non statici non attaccanti puri e classici in mezzo ai quali inserire sempre un numero 10 e il numero 10 di arteta è mesuto zil che ha giocato da titolare tutte e tre le partite è un giocatore che si cerca di recuperare anche se ormai da diverso tempo diciamo così entristito l'ex real madrid però arteta da spagnolo da uomo di un certo tipo di calcio sta puntando molto su questa figura così come sta puntando indiscutibilmente su quello che è il suo centrocampista principale con buona pace di tutti gli altri ed è l'uruguaggia torreira buona pace anche del napoli che ci aveva messo gli occhi addosso invece deve ripiegare per forza di cose sulla botca perché torreira è il giocatore per la mediana dell'arsenal che gli giochi al fianco gendusi che a me piace molto e credo che questa possa essere la copia del futuro anche se gendusi è giovane l'ho visto fare delle partite già incredibilmente mature e altre in cui invece questo suo gioco allucinato che ripeto a me piace molto trascende un filo ha giocato chaka contro il manchester united lui è sicuramente un'alternativa importante già il nome di alternativa è abbastanza stretto per grani chaka però le cose si stanno sistemando anche queste corsie molto arrembanti arteta deve calmarsi un filo in certe visioni forse mi permetto di dirlo con il massimo della stima perché ad esempio sacca come terzino è un po un azzardo con la ginaz è un giocatore un pochino più di ruolo però l'arsenal è una squadra in movimento positivo mentre il manchester united continua a vederlo una squadra che non ha questo tipo di presenza costante infatti la sconfitta contro i gunners ha un po diluito l'effetto delle due belle vittorie post natalizie ma il manchester united è una squadra che non ha un gioco propositivo è una squadra che fatica enormemente quando deve fare la partita e lo si vede praticamente in tutte le sue espressioni sono rarissime le gare anche vinte dal manchester united con un dominio sul piano del gioco in più in questo momento si è riproposto il problema serio con pogba che deve essere operato che starà fuori che è molto lontano da questo progetto per cui il manchester united in questo momento è al quinto posto però delle squadre che stanno lì in alto continua a sembrarmi una delle più fragili sarà una stagione lunga per i red devils indicazioni che ovviamente possono mutare di settimana in settimana anche perché come vi ho detto qualche giorno fa comunque il lavoro di solcher è un lavoro apprezzabile perché le condizioni in questa stagione dello united non erano sicuramente favorevoli un lavoro che invece sta rivelando un po difficoltoso nelle ultime settimane è quello di josé maurigno che è arrivato col sorriso è arrivato con buoni sentimenti le cose vanno fino a un certo punto e infatti nell'ultima partita siamo tornati a vedere il morigno vecchio il morigno che ha detto sono stato maleducato ma nei confronti di un idiota quel che è certo è che in ogni partita ci regala sempre degli spunti di cui parlare e per i quali anche divertirci il manager portoghese sta divertendo un po poco il suo tottenham un punto fatto in due partite abbordabili è sicuramente un bottino molto magro così come una sola vittoria nelle ultime quattro la posizione rimane comunque una buona posizione con 30 punti tutto è possibile c'è stato un salto rispetto alle ultime settimane della gestione pocettino però adesso c'è anche il problema di hurricane che ha subito un infortunio muscolare gli esami fatti oggi sono esami che possono dare delle notizie cruciali perché senza ericane è una squadra che perde un riferimento assoluto e non ha un'alternativa pura al centramanti della nazionale inglese l'altra cosa che il tottenham deve assolutamente migliorare è la tenuta difensiva la difesa è lassa la porta continua a spalancarsi per cui sono tanti i correttivi che deve portare giose morigno e tantissimo nel lavoro da fare ma ripeto queste sono indicazioni che valgono per l'immediato perché in inghilterra si continua a giocare in inghilterra le cose possono cambiare da un momento all'altro prendete ad esempio il fondo della classifica dove ora si è del norwich che mi sembra la squadra più in difficoltà però il norwich contro il tottenham due turni fa ha giocato un match assolutamente vivo così come è risorto il watford la grande sorpresa di questo periodo natalizio watford che ha fatto dieci punti nelle ultime quattro partite dopo che ne aveva raccolti nove nelle precedenti 17 watford che in queste quattro partite ha segnato otto gol quando ne aveva fatti nove nelle precedenti 17 basta una sgasata basta una serie e davvero ogni prospettiva si può riaprire in inghilterra e parlando di fondo della classifica chi sorride in questa giostra natalizia è anche la stone villa una stone villa che continua a sembrarmi pericolante però due vittorie nelle ultime tre ma hanno ridato fiato ai villains che invece il fiato lo sta perdendo ce l'ha molto corto sono ad esempio il bournemouth bournemouth che ha fatto un solo punto nelle ultime quattro e direi che la sconfitta contro il nuovo west ham di moise è particolarmente dolorosa per le cherries che infatti sono piombate nel bottom tree nella zona retrocessione ma occhio anche il burley tre sconfitte consecutive per una squadra che aveva iniziato il campionato molto bene e adesso si ritrova risucchiata dietro insomma è sempre uno spettacolo è sempre possibile qualsiasi cosa c'è sempre da divertirsi ci sono sempre scenari senza eguali in questo campionato che è un campionato dai valori antichi dai profumi molto vintage ma sempre più proiettato verso la modernità verso la prossima era e verso i vertici soprattutto del football internazionale del football mondiale si parla spesso di modello inglese a volte anche a sproposito è un'espressione abusata ma in questo caso dopo essersi riempiti ancora gli occhi e il cuore della fantastica atmosfera natalizia viene proprio da pensare che questa sia una cosa da copiare anche dalle nostre parti grazie grazie